...dei telegiornali, dettata di Pietro, bruciata di Pietro e paga pantalone questo a beneficio del nostro pubblico, che spesso la gente è meno disinformata di quanto non immaginiamo non esiste nessuna commedia di Totò che si chiama Io pago, è una battuta detta in un film, punto che ho detto questo prima? si, è detto commedia ah perfetto eh quanto puntone oggi è una battuta detta in un film, giustamente si segna tutto, c'è il libretto, il taccuino, qua, ogni cosa e adesso è diventato il tormentone di striscianotizia appunto ogni volta che c'è qualche caso scandaloso da denunciare di sperpero di denaro pubblico che attualmente diciamo che, ecco adesso il discorso, prima parlavi del fatto della gente più cattiva forse c'è più attenzione adesso alla mediaticità in qualche modo? c'è più attenzione, scusa? da parte il pubblico a che cosa? scusa, non ho capito la domanda, vi faccio una domanda di riserva un aiutino rispetto a prima, c'è una maggiore attenzione rispetto a prima di fronte all'esposizione mediatica, appunto delle notizie delle brutte notizie soprattutto di quelle brutte perché stranamente quelle belle non fanno notizie appunto solo quelle brutte, chissà perché si ricoppiano e vengono enfatizzate sì, certo dicevo anche prima, per collegarmi al discorso che facevo che la spietata lotta all'ascolto all'audience tra le detti televisive ha generato una continua ricerca di casi al di sopra delle righe da proporre alla gente, perché la gente da una parte è assuefatta alle brutte notizie e che quindi in parte è indifferente ciò resta più indifferente sì, però al tempo stesso se questi, se dei fatti di cronaca hanno qualche elemento, qualche ingrediente un pochino particolare che li differenzia da tutti gli altri chissà perché ci si buttano a pesce poi cioè da una parte c'è indifferenza quindi c'è una mamma che ammazza il figlio e confessa non ne frega niente di nessuno il giorno dopo è dimenticata una mamma che ammazza il figlio e non confessa e allora gli fa scattare tutta una serie di morbosità, di curiosità di situazioni per cui tutti ci inzuppano il pane tutti ormai vengono i tre giornali quasi come un film adesso sì, effettivamente negli ultimi tempi ci sono stati 3-4 casi parlo degli ultimi 4-5 anni dei casi veramente incredibili tanto li sappiamo tutti il caso di Erba è una cosa che darà capriccio il caso di Erika e Omar il caso Franzoni ed altri 3-4 non dimentichiamo però negli scorsi anni ai tempi di Cecchiametta sicuramente ci sono sempre stati più omicidi il caso del Canaro a Roma che è stato forse l'omicidio più esperato sì, però si è identificato subito il problema è che quando un caso si risolve subito la gente dopo un po' se lo dimentica invece a tenere banco sono i casi dove c'è sempre una margine di dubbio che in qualche modo genera due opposte fazioni innocentisti e colpevolisti e questo fa sì che proliferino tutta una serie di iniziative di show contro show inchieste, dibattiti dove tutti gli invitati a questi salotti che a vario titolo intervengono spesso gente che non c'entra nulla che non ha alcun titolo per parlare e per sentenziare però Blatter a ruota libera in maniera di tutto incontrollata tutta una serie di teorie, una serie di ipotesi che non sono suffragate in realtà da nulla e tutto questo ha una funzione molto pericolosa quella di innescare nella gente una serie di reazioni a catena abbastanza inquietanti non solo, ma anche il desiderio di emulazione che è una cosa molto pericolosa perché io, è vero che mamme che hanno ammazzato i bambini ce ne sono sempre state però dopo il caso Cogne guarda caso c'è stato il caso della mamma che ha messo i bambini in lavatrice quell'altra che l'ha soffocato con una busta di plastica e poi c'è stato quello che l'ha messo nella bagnarola e l'ha affogato cioè una cosa continua, non si era mai vista un'altra che se ne ha portati due nel lago e li ha affogati tutti e due perché secondo te ci sono dei casi perché giustamente io penso sembra una stupidaggine chissà quante di queste mamme omicidi hanno pensato cioè vedi la Franzoni sta su tutte le copertine che ha ammazzato un figlio io ne ammazzo due e mi daranno ancora più spazio nelle prime pagine inconsciamente posso scattare questi meccanismi però ci sono dei casi che salgono subito rimbalzano agli onori della cronaca e altri no per esempio c'è stato un caso a Ostia Lido Lido di Ostia qualche diciamo meno 15 anni fa più o meno una madre presente ha trovato, almeno ha dichiarato di aver trovato i suoi due figli morti in una vasca da bagno all'epoca il giudice le ha creduto e praticamente è stata archiviata come una disgrazia dopo circa due anni questa era una professoressa di lingue il marito di educazione fisica qualcosa del genere non ricordo bene perché poi abito non molto lontano di là perci ho vissuto con prima persona anche questo episodio lo ricordo bene e dopo circa due anni è morto anche un altro figlio appena nato aveva pochi mesi nello stesso modo a quel punto è stato rieperto anche il caso precedente e si è scoperto che questa madre aveva ucciso tutti e tre i figli mio dio però perché questa notizia per esempio è uscita qualche giorno sui giornali però non ha suscitato quella che è stata l'attenzione mediatica poi ci sono una serie ascolta ci sono una serie di fattori concomitanti no? è come un film perché un film ha successo un altro ma ti ho la domanda perché ormai sei quasi un criminologo insomma della celluloide perché un film piace e un altro no cioè neanche piace perché magari un film attira e appena esce manda la gente al cinema ed altri no sono una serie di elementi che in qualche modo colpiscono uniti tra di loro fanno una miscela tale che può o meno suscitare determinate reazioni certe vicende incuriosiscono altre meno ma è un fatto abbastanza insondabile a volte a parità di crimine poi ci sono ecco dei casi eclatanti che è inevitabile che 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 caso del di di dei bambini il caso di pedofilia di Rignano Flaminio per chi è colpito cioè voglio dire di della scuola ma ci sono tre maestre tre mamme di famiglia poi che siano colpevoli o innocenti noi non lo sappiamo però il fatto stesso che siano indagate uno dice oddio allora io mando qualcunque mamma pensa oddio io mando mio figlio a scuola mio figlio ha due tre anni credo che stia in buone mani invece succedono possono succedere delle cose incredibili è chiaro che ci sentiamo un po' tutti colpiti no? e il caso Franzoni per esempio perché ha colpito tanto il resto è il fatto che io voglio dire non sono né colpevolista né innocentista mi riferisco ovviamente a quello che è nelle cronache di tutti i giorni perché ha colpito tanto? perché ogni mamma ha pensato dentro di sé ma allora anch'io un giorno potrei ammesso che la signora abbia ammazzato veramente il bambino potrei anch'io avere un momento di follia un momento di rap perdere un attimo la pazienza magari ammazzare mio figlio no? come qualunque figlio pensa della propria mamma oddio mia mamma avrebbe potuto ammazzare anche me no? tu sai che all'uomo italiano tutto li puoi truccare tranne che la mamma quindi in un certo senso questo caso ha toccato dei tabù della famiglia che riguardano un po' tutti noi cioè tutte quelle cose che sono dentro di noi ecco quando tocchi argomenti di questo tipo magari è più facile che scatti questo interesse morboso perché il discorso è sempre quello della paura paura che anche a noi possa succedere qualcosa di simile poi sono due parlate del caso di pedofilia poi ci sono tanti casi di pedofilia magari da parte di rappresentanti del clero che magari vengono insabbiati dalla chiesa dalla santa sede e naturalmente non vengono non ribalzano poi agli onori della cronaca poi sono casi come il caso per esempio di Marseille De Gogliato che è stato addirittura beatificato ed è stato accusato per circa 20 volte di abuso sessuale a danno dei seminaristi però Marseille De Gogliato è il fondatore del legionario di Cristo chiaramente ha creato una grossa congregazione plurimiliardaria perciò direi proprio miliardaria infatti perché milionaria non parliamo proprio in termini di euro e praticamente giustamente è stata insabbiata dall'attuale Papa Ratzinger che è stato allora era prefetto della congregazione della fede l'ex sant'uffizio praticamente però adesso con questo discorso stiamo un po' sconfirando però è una cosa io tengo tanto in un ambito addirittura Marseille De Gogliato è stato fino anche beatificato addirittura però al ricordo di verità bisogna anche dire questo ecco non è spettacolizzazione ma è verità verità mediatica perciò ci fermiamo per un attimo magari vediamo se c'è qualche notizia di qualche prete pedofilo che è stato inquisito è stato inviato a giudizio guardate scusate però sono argomenti un po' seri forse andrebbero trattati con meno leggerità sicuramente ma io li ho trattati sempre molto seriamente